E oggi cari amici torniamo nella serie di Project Playtime, un nuovo gioco multiplayer di Poppy Playtime Oggi siamo qua perché finalmente gli sviluppatori ci stanno dando delle immagini e notizie ufficiali per quanto riguarda l'uscita del gioco Ed era anche ora, e meno male visto che questo gioco doveva già uscire il 6 dicembre e purtroppo ancora non è qui disponibile Come abbiamo visto nei video scorsi, purtroppo ci sono dei problemi con i server e questo impedisce proprio il corretto funzionamento del gioco Però se ci pensiamo forse è meglio che magari esca con qualche giorno di ritardo senza bug, piuttosto che farlo uscire prima che poi magari neanche funziona I server crashano e quindi succede tutto quanto un casino inimmaginabile Va bene, andiamo subito in partita, devo scoprire tutte quante le novità Ma come sempre c'è da qui sotto tantissimi like e se non siete ancora iscritti iscritti al canale con la campanella attiva Anche perché qua su questo canale faccio video tutti i giorni con novità e gameplay di giochi horror Ma direi di partire subito, si comincia E tra l'altro ci tenevo anche a ringraziare RamadanGR e Malsu con l'emoticon della fiamma e il cuore nero Per aver fatto l'abbonamento al canale, grazie mille davvero tanto per il supporto Ma adesso direi di partire, cominciamo Andiamo a scoprire insieme tutte quante le novità di questo nuovo gioco Project Playtime Che in italiano è tradotto come Progetto Giocotempo Ma cosa? Ma che roba? Anche se in realtà abbiamo pure scoperto che il vecchio nome era Poppy Playtime Multiplayer Edition Quindi comunque sempre collegato con Poppy Playtime Partiamo subito, andiamo prima a vedere dei video che riguardano appunto delle skin molto molto particolari Che confermano anche la presenza del prototipo 1006 Nella puntata precedente vi ho fatto vedere alcune delle skin che ci saranno nel gioco Ma qui adesso vediamo le skin di Mommy, quelle della mano e anche quelle del Greypack Vai, tocchiamo Play, vediamo questo video fatto da Letty Playtime Vi ricordo che queste qua sono skin ufficiali che ci saranno realmente nel gioco Metto soltanto qua un po' di musica, se no c'è niente Ecco qua, no vabbè, ma c'è anche la skin di Daddy Long Legs E quindi il nostro caro papino delle gambe lunghe è confermato Ci sarà su Project Playtime come skin di Mommy Ma è bella sta cosa qua, questa cosa è Mommy in versione principessa No vabbè, vabbè, questa skin è normale di Mommy E fin qua tutto bene Cos'è questa? Skin di cioccolato, caramello, cos'è? No vabbè, questa qua l'abbiamo pure vista dalle immagini ufficiali Che hanno messo in Momgaze La versione quella calamaro, polipo, cos'è sta roba Vabbè, andiamo avanti qua Proseguiamo con la nostra cara avventura Tra l'altro, mentre ci sono queste skin Fatemi sapere qui sotto nei commenti quale vi piacerebbe vedere magari più spesso nei video Che sono veramente curioso Vabbè, questa è una Mommy un po' più rossa del normale No vabbè, Mommy Metallica È bellissima Questa l'abbiamo pure vista la volta scorsa con il gameplay in versione beta C'era Mommy Robotica Questa devo assolutamente averla, assolutamente Questa invece cos'è? Tutta quanta bronzo Argentata, la bambina argentata Dai, non mettetemi ste schede qui davanti Questa qua è completamente di cemento A posto E adesso siamo arrivati con le mani Fate molta attenzione perché fra queste mani ci saranno anche quelle molto molto particolari Di un personaggio che per il momento noi sappiamo soltanto una cosa Ma che è... Vabbè, non vi faccio ulteriori spoiler Tocchiamo play Non voglio stare qui a spoilerare durante il video Ma è allora Ecco qua, qui ci sono delle mani Ricordo come al solito che sono sempre robe ufficiali quelle che stiamo vedendo Non è roba fan made Guardate qua intanto le varie mani del greppac C'è pure quella rossa, normale Quella penso robotica Cos'è di rubino? Vabbè, queste robe metalliche Argentata Ecco qua Aspettate, aspettate Mi fermo un attimo perché già questa mano Voglio farvela vedere meglio Questa è la mano dell'amichetto scheletrico Ma è bellissima Anche questa è una delle skin che devo assolutamente sbloccare Quando uscirà il gioco La voglio assolutamente Non esiste una serie nel mio canale se non c'è qualcosa collegato con l'amichetto scheletrico Che ormai dovrò farci tipo, non lo so Una mascotte L'amichetto scheletrico L'uva mascotte del canale PaninoTube Scrivete questo nei commenti Hashtag amichetto scheletrico Ma andiamo sempre avanti Ecco qua Cos'è questa? Sembra la mano di freezer Vabbè Andiamo avanti Un freezer un po' più grosso del solito Uh, mano pixelata di Minecraft Belle Devo dire che le mani Vabbè, ci sono quelle che hanno soltanto vari colori Altri che invece hanno delle forme molto molto interessanti Ok, cos'è un piatto quello? Aspettate, aspettate Eh, però mi fermo troppo sempre Troppo tardi Allora Questa è la mano di Boxiboo Quindi sarà una mano del Greppac Bellissimo Aspettate Tra l'altro qui in fondo Ma c'è una mano di Boxiboo che esce fuori dalla porta È bellissimo Andiamo avanti Bye Ok, altra mano con i piatti Posate Forchette Una mano di un orso Cos'è quella? Ok, mano verde Eccola qua Eccola qua Questa era la mano che volevo far vedere È una mano molto molto importante Soltanto in pochi l'hanno riconosciuta Ma proprio veramente in pochi 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 Anche tra gli youtuber Che hanno portato appunto alla reazione Le mani nuove del Greppac Non hanno riconosciuto questa mano Questa è la mano del prototipo 1006 Quindi è confermato Il prototipo 1006 Ci sarà su Project Playtime Per il momento è soltanto come mano del Greppac Però Vi ricordo una cosa In Bob Games hanno detto una cosa molto molto particolare Che su questo gioco ci saranno dei segreti da scoprire Quindi non sarà un classico multiplayer Dove ci sfidiamo così tra giocatori No Sarà anche un gioco dove ci sono dei segreti nascosti E toccherà a noi doverli scoprire Bellissimo Vabbè Andiamo avanti qua Vediamo le altre mani Ok Vediamo se c'è qualcos'altro Mani colorate Questa è una mano Questa è bella però con i vari personaggi sulle dita Poi vediamo Uh La mano di Topolino Mano argentata Mano con i disegni sopra Mano di cemento Mano verde Mano Cos'è di magma Mano di fuoco quella è No Questa è la mano di Aghiwaghi Avete visto Questa è la mano umana Mano di Kissimissi Mano con i guanti Quella verde A posto Sembra che sto facendo tipo la lista Questa invece è la mano di Mommy Long Legs Bellissimo Questa è la mano della skin Quella del polipo di Mommy Long Legs E vai Poi andiamo avanti Niente Qua fa vedere le ultime mani Che sono in questo modo Quindi allora Eppure confermata la presenza Della mano gialla Ci sarà la mano gialla Su Project Playtime Anche il prototipo 106 De Di Long Legs Insomma Tante cose confermate Va bene Andiamo a vedere soltanto più Quest'ultima parte Che ricorda appunto Il Greppac Il Greppac Dell'amichetto scheletrico E' bellissimo Adesso Qui posso proprio vedere Anche la mano associata Cioè nel senso La parte del braccio Qui c'è il Greppac La parte dietro Ok Ma faccio vedere qui al volo E qui invece c'è la parte Proprio quella dove Poi si collega la manina Tutto quanto insieme Vabbè Meglio così E' fatto praticamente bene Questa cosa Uh il Greppac Tutto quanto rosso Però con i riflessi Greppac Robotica Bellissimo Cos'è? Oh no Questo qua è quello tipo Com'è che si chiama già Quella festa Quella che si fa a febbraio E dove ci sono pure i carri Tutti quanti mascherati Ecco qua Carnevale E non mi veniva il nome E' il buon panino Alcune volte C'ha pure le dimanticanze Un like per il buon panino Che alcune volte Si dimentica i nomi E non lo faccio apposta Va bene Questo qua Presente il Greppac Con le stelle filanti Questo qua va bene Per carnevale Ecco quando dovrò fare Lo speciale carnevale Potrei sbloccare Questa skin Delle Greppac E divertirci insieme Tra l'altro Prima di proseguire Vorrei pure darvi un annuncio Oltre vabbè A fare alcune collaborazioni Con alcuni youtuber Ma di questo Ve l'ho già parlato In video scorse Vorrei pure fare Delle live Qui su youtube Quindi fatemi sapere Se vi piacerebbe Vedere delle live Dove anche voi potrete Entrare in partita Ma vi ricordo Questo qua viene soltanto Se la serie viene supportata Se so che vi piace la serie La porto avanti più Che volentieri Ma so che vi piace Perché già comunque I video che sto facendo Mi stanno piacendo un sacco Mi fa tanto tanto piacere E vi ringrazio tantissimo E questo invece È il greppac Di mommy long legs Bellissimo Cioè le hanno pure Dedicato un greppac Bella sta cosa Mi sembra che ci sia anche Quello di agiwag Che poi da dietro Con i nemici Ah c'è chissimi Sembrano degli zanetti Mi ricordano tanto Gli zaini Quelli che ci sono pure Su horror brawl Cos'è questo invece Quella di magma A posto Quella tutto quanto Uh che Beh dai Sembra interessante Greppac normale Questo è il classico Greppac Quello che c'è normalmente Su poppy playtime Qua tutto quanto colorato Uh il greppac Di boxy boo Ok Bellissimo Quello di boxy boo Qui No vabbè Quello con la botte dietro Cos'è la botte di vino Quello di dietro Ma che roba Intanto qui sotto Mi compaiono i video consigliati Che ci sono Vabbè C'è pure il mio video E c'è pure quello la Novità di Ice Cream 7 Eh sì perché Per chi non lo sapesse Già che ci sono Prossima settimana Venerdì 16 dicembre Uscirà Ice Cream 7 Il nuovo capitolo Del gelataio Quindi vi aspetto in tanti Anche per questa Nuova grande serie Dove possiamo divertirci Ma adesso Direi di fare una cosa Passiamo alla comunicazione Ufficiale dei mob games Dove possiamo proprio vedere Questa nuova immagine Che hanno messo Più anche l'avviso Che ci hanno scritto Perché comunque Finalmente ci hanno dato l'avviso Che sto gioco sta per uscire E finalmente Era anche ora Ok prima vi leggo qua L'annuncio ufficiale Che ho tradotto in italiano Qui per voi Adesso hanno scritto proprio Praticamente alle 20.13 Dell'8 dicembre Ciao a tutti Vogliamo ringraziare L'intera comunità Per il loro straordinario Supporto Negli ultimi giorni Gli sviluppatori Hanno lavorato Incredibilmente Duramente Cercando di risolvere Un ultimo problema Critico Pop up E di consegnarvi Il gioco il più Presto possibile Non appena Ne sapremo di più Invieremo aggiornamenti Stiamo aspettando Alcune conferme Del team di sviluppo Per fare promesse Ma grazie ragazzi Per essere rimasti Qui con noi Siamo molto dispiaciuti Per il ritardo In qualità di creatori Vogliamo solo offrire A tutti voi Un'esperienza divertente Con Project Playtime In modo che possiate Godervi Adeguatamente Il gioco In cui abbiamo Riversato i nostri cuori E le nostre anime Grazie ancora E vi aggiorneremo Presto Quindi a quanto pare Qui Proprio ci stanno dicendo Che i lavori Stanno andando avanti Cioè comunque Stanno lavorando Duramente Per poter risolvere Questi problemi Spero che possano Risolverli il più presto possibile Così finalmente Possiamo giocare A questo gioco E soprattutto Spero che non Escano troppo tardi Perché non voglio Sovrapporre La serie di Project Playtime Con la serie di Esclin 7 Voglio tenerle comunque Separate Ecco Soltanto questo Tra l'altro Qui sotto è stata Poi messa Un'immagine Ma adesso ve la faccio Vedere meglio Non è un'immagine Qualsiese È un'immagine Ufficiale Che fa vedere Proprio Il menu principale Del gioco Quando noi apriamo Proprio il gioco Di Project Playtime Questo ci ritroveremo Davanti Questa qui Presumo che sia La skin del player Che potremo personalizzare Come vogliamo E qui intorno Ci sono le varie parti Questa è fase 1 Non so cosa possa significare Però Presto lo scopriremo Da notare Qui sotto ci sono pure Ad esempio qua 5 Non so che cosa Presumo che forse Ci sia tipo una sorta di pulse Dove Noi poi possiamo pure Sbloccare varie skin Andando avanti No Attraverso le partite Qui ci sono altre cose Come ad esempio Le monete E anche i biglietti gioco I biglietti gioco Si guadagnano comunque Durante la partita Le monete invece Mi sa che forse Si possono acquistare Forse Non ne sono ancora Certamente sicuro E vediamo ancora qui sotto Play Carriera Personalizzazione Store Screen room Crediti Survival tutorial Monster tutorial Quindi vuol dire Che possiamo Usare la modalità carriera Addirittura Cioè la modalità carriera All'interno di questo gioco Quindi Come dicevo prima Non è un semplice multiplayer Dove ci sfidiamo Tra noi giocatori Ma sarà qualcosa Ancora di più Una sorta di proprio Gioco stesso Con una storia dietro Alcuni mi hanno scritto Nei commenti Parino Questo qua in realtà Non è un nuovo capitolo Di Poppy Playtime Ma in realtà Se ci pensiamo bene Questo si può vedere Come un nuovo capitolo Vero e proprio Perché c'è una storia Ed è ambientato proprio Anni prima Al primo capitolo Dove vi arriva subito La notifica E sarete tra i primi A vederlo Nel prossimo video Come sempre Vi auguro Buona giornata Buona giornata Buona giornata Ciao a tutti Buon panino a tutti E speriamo che il prossimo video Stia veramente sul gameplay Di Project Playtime Perché non me do l'ora Di giocarci Ciao